Antonino Siracusa, box e appartenenza, CrossFit MDV, The Baddie Games 2019, Categoria Master 45 e più. Ok, andiamo. Stai pronti? Sì, sì. Vecchio Nino. Guarda. Guarda sono un po' laola, aici. E io ho preso i tuoi Allora, non ci siamo là Non ci siamo Allora, non ci siamo Allora, non ci fanno una cosa Non ci fanno una cosa, non ci fanno una cosa Non ci fanno una cosa Sessantai un po' di lì, dai un giro Sì Allora, prima Bartis Lascia la giampa e poi No, prima la strassi Tu lo capito è che ieri a Peppe che ero Quattro, tre Due, uno Vieni Quattro, tre, due, uno Vieni 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 Sì, non è solo un po' inizio, non è solo un po' inizio, non è solo un po' inizio, Siamo? Siamo? Siamo dai! a e 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 ok 1 2 3 4 5 6 7 8 vai 9 10 11 12 20 14 15 16 ok se 2 è 15 bravo dai l'ultimo bravo dai l'ultimo bravissimo vado così vai buono sei 2 e 40 buono dai ragazzi partiamo con il letto 1 1 1 1 2 3 4 5 6 6 6 9 10 10 10 10 10 12 12 14 15 15 15 un pochettino più dietro ok vai nino vai visto che senti su dai 15 16 16 18 19 19 20 ultima 1 3 e 52 lo scriviste 3 e 52 rischi vicini rischi vicini 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 21 e otto 6 calorie dai Nis 5 4 3 2 1 ok staccati staccati vai 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 a 1 a 1 Nino 5 staccati staccati ecco se fai un passo indietro dai 8 vai bravissimo dai 9 staccati vai 10 bravo dai 11 staccati prima Nino e poi un passo indietro vai vai così 13 più indietro vai 14 più indietro vai ok vai Nino hai cappa sui bel angeli ah vai Nino dai dai 6 minuti e ci manda 2 siamo dai Nino dai tu te ne gioco tutte a tirare 2 vai calmo calmo rilassi dai questo va bravo bravissimo così dai calmo stati ah così 6 bravo dai 6 bravo dai 4 ok 4 Nino vai 4 vai Nino vai 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 Nino vai nei vai 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 sono 9 sono niente 1 2 3 bravo dai 4 calorie mancano dai 3 l'ultima l'ultima va subito Nino siamo 8 e 28 dai Nino vai 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 Nino vai Nino dai vai 1 staccati prima Nino dai 2 staccati prima 3 4 un minuto manca Nino vai 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 a volo Nino dai veloce mancano 40 secondi Nino dai dai 30 secondi vai vai 30 secondi vai 20 secondi vai Nino vai a capparino a capparino a capparino 20 secondi manconi dai non lo mollare più vai 10 secondi manino vai 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 tira 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 5 secondi 4 2 allora 9 calorie piastra da 5 5 e 10 guardiamo il superstito nino come ti senti come ti senti